Amici, inizia il vostro youtuber numero uno con Man vs Food Inizierate solo in viaggio, tra poco arriviamo e lì non ce n'è più per nessuno Ci vediamo dopo, ciao ciao I nostri concorrenti sono arrivati, prepariamo il fegato Siamo pronti, stiamo pensando a fare 12, hamburgero 10 Ora vedremo, ci sediamo, ci accomodiamo dopo Allora il record è 9, non finito, chiariamoci Noi abbiamo preso un hamburger da 10 piani Ci arriviamo nella memoria di questo ristorante, sicuramente Adesso aspettiamo che arrivi con due coche zero, giusto? Perché non è l'assoluto, ci teniamo 4 coche zero A zero sempre Ci vediamo dopo Siamo qua ancora a aspettare l'hamburger 1,6 kg, giusto? 1,5 kg 1,2 kg siamo arrivati No, quant'era? 1,3 kg, 2,50 kg Siamo arrivati 1,5 kg Sarà dura Sarà dura, però Mi sono messo la bavaglia e non è ancora arrivato un cazzo Siamo pronti, siamo carichi Poi si parte Sei pronto? No, no, no Inizio a pensare di non farcela Inizio a aver già cagotto adesso È dura 2,1, via Il primo socio è anche lui, è un paresino Ma io Madonna Che stommata! Io credo di averne mangiato 5, faccio l'ultimo morso, poi al restante me lo mangio a casa sua, io non ce la faccio più ragazzi, sono una merda, sono arrivato solo a 5, lui è già sulla buona strada, scarta il formaggio ma perché non gli piace, cioè può, con il cesso da nuovo, vediamo se arriva fino alla fine lui, entrirebbe nel Guinness di 10 panini, di 10 però non credo ce la faccia neanche lui, perché fa tanto lo sbruffoso, comunque complimenti a Omar, continuiamo il video! Anzi questo è quello che avanzo, non lo porto a casa, sono troppo pieno, sono arrivato a 5, mi sento in una nullità, saluto Uefo, che mi ricorda il mio socio, Uefo, il mio socio ce l'ha quasi fatta, mamma mia che Uefo, anche se perderà avrà tutta la mia stima, ma che sgiunfamento, guardate quel grasso, guardate che grasso che c'è, Ah, che buono, è tutto bello in grasso! Un hamburger e mezzo, mantenuto alla media di 8, complimenti Omar, bravo, bravo, di sicuro meglio di me, calcolando che ha mangiato che non gli piaceva il formaggio, cioè non ha c'era gustato, capirlo, non lo sospettiamo, puoi dare l'ultima morsa e no, basta, basta, è un fallito, abbiamo finito, lui ha fatto il record, il record è 9, abbiamo un formaggio, però quello che ha mangiato il record è 9, venite qua al BBQ ad Azzano Lombardo, Azzano San Paolo, mi raccomando, cercate di battere noi perché a me ci riuscite di sicuro, ha fatto una figura di merda, lui, vabbè, è arrivato a metà, bravo, bravo, manca solo UEFO, UEFO ti sfida, buona fortuna, ciao a tutti, alla prossima, like, commenti e condivisioni! Ciao!